buongiorno ben ritrovati dalla redazione web della città buon mercoledì 16 maggio una bellissima giornata di sole quella di oggi a torino a dire il vero un po fresca perché abbiamo già da stamattina e ci accompagnerà per tutto il corso della giornata un leggero vento che spazia dal maestrale alla tramontana comunque arriva da nord e quindi porta un po di aria fresca in città le massime oggi saranno nel pomeriggio intorno ai 18 gradi circa una particolare attenzione la consigliamo a chi ha la pelle molto sensibile agli anziani e bambini perché nelle ore centrali della giornata cavallo del pranzo quindi da mezzogiorno in avanti l'irradiamento solare previsto in città è molto forte quindi ovviamente può portare qualche problema a chi ha pelli particolarmente sensibili vediamo adesso qualche notizia di viabilità cominciando da un evento che ci sarà quest'oggi allo stadio olimpico con inizio previsto intorno alle 18 e 30 si tratta di una partita di calcio benefica tra tifosi vecchie glorie e personaggi famosi tifosi del toro e della juve un'iniziativa che si intitola un gol per amore l'incasso è finalizzato a raccogliere dei fondi per il coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di down come detto si comincia le 18 e 30 allo stadio olimpico quindi in serata è previsto ovviamente un po di traffico nella zona diamo un'occhiata anche a quelli che sono gli autovelox posizionati oggi in città li troverete sui corsi grosseto moncalieri unità d'italia in via santa maria mazzarello e in lungostura lazio sono attive e ve lo ricordo fino a sabato anche le rilevazioni alle infrazioni al codice della strada con telecamera le troverete sulle vie principi da caia freius monginevro dinanni cibrario san donato nicola fabrizi e nicomede bianchi infine vi segnalo che fino alle 18 di oggi c'è un divieto di transito in via vallarsa tra via plava e via monte cengio per via di alcuni lavori diamo adesso un'occhiata alle notizie che trovate sulla home page del sito della città nell'edizione odierna di torino click l'agenzia quotidiana curata dall'ufficio stampa la prima riguarda due feste di via che sono state approvate durante la riunione della giunta di ieri si svolgeranno nei prossimi giorni la prima riguarda il quartiere santarita dove da sabato 19 fino al 22 di maggio si svolgerà mercatino in piazza santarita nelle aree pedonali tra via mombarcaro via barletta in via barletta e in corso orbassano sempre questo weekend ma in un'altra zona della città e nella giornata di domenica 20 ci sarà invece una festa primavera del borgo a borgopo che si svolgerà in via monferrato via cosmo e via villa della regina un weekend di denso di appuntamenti e così arriviamo alla seconda notizia anche perché sabato ci sarà il passaggio della tappa del giro d'italia della quattordicesima tappa del giro d'italia che va da cherasco fino a cervinia passerà anche da torino nelle fasi iniziali per così dire della tappa ci sono ovviamente delle variazioni alla circolazione dalle 11 e 30 alle 14 con le aree interessate dal passaggio dei corridori nelle quali vigilarà il divieto di transito anche per i residenti vi rimandiamo al sito della città per vedere quelli che sono i punti della città interessati appunto da questo divieto e chiudiamo poi con l'ultima notizia che riguarda la trasformazione prevista di via botticelli perché il consiglio comunale ha approvato una un progetto di riqualificazione dell'area in particolare parliamo dell'area tra via botticelli e piazza aderna quello dove sorgeva l'ex stabilimento dell'alfa romè un'area che sarà completamente ristrutturata ci sarà una piazza pubblica ad affaccio su via botticelli una torre di 17 piani sorgeranno nuovi spazi urbani nuovi spazi anche commerciali e parcheggi interrati saranno realizzati dei controviali in via botticelli e sarà previsto anche attraverso questo nuovo spazio un collegamento diretto tra corso giulio cesare e via botticelli attraverso il prolungamento di via ramazzini bene vediamo adesso alcuni appuntamenti per il pomeriggio e per la serata cominciando dal cinema un grande appuntamento quello del cinema perché alle 18 e 15 al massimo 3 nell'ambito della rassegna dedicata a Paul Newman e a Steve McQueen c'è la proiezione di lassù qualcuno mi ama un film di Robert Wise del 1956 che vinse due premi oscar Paul Newman nel ruolo del protagonista il pugile Rocky Graziano un ruolo che gli arrivò per la morte improvvisa di James Dean e uno Steve McQueen qui al suo esordio vi ricordo che i biglietti sono a 6 euro 4 euro per quanto riguarda le riduzioni per la musica l'appuntamento è senz'altro in serata alle ore 20 al teatro regio andrà sul palco la norma di vincenzo bellini per la regia di alberto fassini le scene i costumi di william orlandi vi ricordo che i biglietti vanno da 50 a 150 euro ma un'ora prima della messa in scena alle 19 quindi al botteghino del regio almeno 30 biglietti con il 20 per cento di sconto presentazione di libri questa sera alle 21 al circolo dei lettori ci sarà la presentazione di alla mia sinistra edito per i tipi di mondadori scritto da federico rampini editorialista di repubblica che ripercorre il suo personale viaggio all'interno della sinistra italiana e infine chiudiamo con la danza perché al teatro astra questa sera è sempre alle ore 21 ci sarà una coreografia di jasmine godder dal titolo storm and come i costumi di michelle bassad l'ingresso è previsto alle 21 come vi dicevo 12 euro il biglietto intero 9 euro la riduzione è tutto anche per quest'oggi allora grazie a paolo mosso ovviamente per la messa in onda del giornale a tutti voi per averci seguito l'appuntamento come sempre domani alle ore 12 con la nostra prossima edizione di torino world news e 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